In nomine Patris et Filii et Spiritus Santi. Amen. Siano dato Gesù Cristo, continuiamo carissimi fedeli il discorso che abbiamo iniziato la volta scorsa sul sacrificio della Messa. Abbiamo detto che il sacrificio della Messa, per capirlo bene, dobbiamo riferirci a qualcosa che è insito nel cuore umano. Che è insito nell'essere umano, cioè la necessità di esprimere anche in modo concreto, attraverso l'offerta di un dono, proporzionato alle nostre possibilità, proporzionato anche alla persona a cui lo offriamo. Dicevo, attraverso l'offerta di un dono, esprimere la nostra gratitudine, il nostro amore, il nostro rispetto e altri sentimenti che sentiamo nel nostro cuore. Ecco, il sacrificio della Messa, per essere compreso, deve fare riferimento a questa facoltà che ha il cuore umano, cioè la necessità di esprimere concretamente i sentimenti. Oggi diciamo un'altra cosa. Diciamo che finché si tratta di offrire un dono a un altro essere umano, la cosa è abbastanza fattibile, cioè è sempre un altro essere umano a nostro stesso livello, grosso modo. Ecco, ma quando si tratta di offrire un dono a Dio, le cose cambiano, in quanto abbiamo a che fare con l'essere supremo, creatore dell'universo e anche redentore dell'universo. E' colui che ci dà il corpo, ci ha fatto nascere, quindi da lui proviene la vita, ma non solo la vita, anche il mantenimento della vita istante per istante, la nostra vita, la vita degli altri e tutte le facoltà che sono nel corpo, nell'intelligenza, nell'anima della nostra persona. Da lui è il nostro inizio, ma anche il nostro fine. Proveniamo da lui e ritorniamo a lui. Pertanto, quando ci riferiamo a Dio, la differenza tra noi che offriamo e lui che riceve il dono è abissale, è infinita, infinita. Anche i doveri che noi abbiamo sono molto forti, molto grandi verso Dio, sono grandissimi. Intanto, il dovere di una profondissima riverenza, proprio in ragione di questa differenza che c'è tra noi e lui. Una profondissima riverenza. Proprio ieri abbiamo celebrato l'epifania di nostro Signore Gesù Cristo e ci siamo ricordati dell'atteggiamento dei magi nei confronti del bambino Gesù. Oltre al dovere di una profondissima riverenza, anche il dovere dell'adorazione, verso l'autore dell'universo a cui appartiene ogni cosa che esiste. Riverenza, adorazione, gratitudine immensa, perché tutto ciò che è buono deriva da lui. E poi il dovere di una grande impetrazione, cioè di invocazione, la necessità quindi di domandare, impetrare, domandare, supplicare per tutto ciò che non abbiamo ed è necessario per la nostra vita materiale e spirituale. Quindi questi sono i quattro doveri principali che abbiamo nei confronti di Dio, della sua grandezza. Profondissima riverenza, adorazione, gratitudine immensa e impetrazione, cioè preghiera di domanda, di supplica. Quanto ci sentiamo piccoli, quindi di fronte a questi grandi doveri, come riusciremo noi, uomini, a espletare, a portare compimento questi doveri che abbiamo verso Dio, per quello che lui ci dono, per quello che lui rappresenta per noi. E come ci sentiremo di offrire al Padre Celeste quanto abbiamo di più caro, di più bello, al fine di esprimere questa riverenza, questa gratitudine, questa offerta. Ecco, offrire quanto abbiamo di più caro, di più bello, di più prezioso. Sia lodato Gesù Cristo. Nonne Patris e Fili e Spiritus Santi. Amen.